Eccomi con la creazione che volevo fare già da tempo. Dalla rivista Fashion Games, dove c'è scritto che è un fiore, però a me sembra più una stella. Tecnica Brixige, non so se l'ho pronunciato bene, perché io con l'inglese non è che sono tanto brava. E non sapevo fare questa lavorazione, ho dovuto lavorarci molto, fino a che mi sono un po' in proibili ghida di questa lavorazione e ve la mostro più da vicino. Ho fatto un ciondolo, non è l'unica creazione perché sto per finire il completo di questo ciondolo e vi dico anche i codici dei colori che ho utilizzato. Ho utilizzato questo rosa di Crystalline sempre, DB0246 è un colore bellissimo, ho utilizzato anche questo tipo di colore nero, DB0010 è un bellissimo colore. Ho aggiunto dei svaroschi a neppunte, svaroschi millimetri 4 bigono, presi da OB per linee, ecco qui il codice si vede benissimo, 10619 è uno svaroschi bello perché è Crystal B2X, bellissimo. Ho utilizzato delle rocai 11.0 sempre da Crystalline, vi do anche questo codice, 101, no scusate ho sbagliato, 181, ecco qui, vi ho fatto vedere la creazione più da vicino, spero che vi piaccia e vedremo il completo il più presto possibile. Ciao ciao!